si salve a tutti let's player il mio nome è unfergamer85 e oggi siamo in questo vlog come potete vedere raga ho cambiato webcam sto usando quella della ps vita perchè uno i video vengono migliori e due posso anche fare gameplay con questa nel senso usando la webcam ultimamente perchè i miei gameplay sono quelli che vi faccio ogni volta raga in questo piccolo vlog voglio parlarvi di una cosa resident evil director's cut voglio parlarvi raga vi voglio dire che sto pensando di prendermi una pausa da quel gioco voglio prendermi un attimino una pausa voglio metterlo un secondino da parte perchè come lo dovete vedere da quello che è successo nell'ultimo video mi sono scassato la minchia mi sono scassato mi sono veramente un po' rotto le scatole mi sono e quindi ho deciso di aspettare stasera dovrebbe uscire il video di resident evil 3 nemesis la modalità mercenari e registrato sempre con la webcam che finalmente sto usando la webcam che vi ripeto è quella da ps vita che è veramente buona ve lo dico è comodissimo per farvi i vlog piuttosto che usare quella del computer che sapete che va malissimo quindi ragazzi poi tra l'altro sto preparando delle nuove serie ma sto preparando una nuova serie di quella sto preparando la stagione 2006 di MotoGP quindi torneremo un'altra volta su MotoGP e dopo MotoGP penso mi farò un attimo mi prenderò una pausa dal canale mi prenderò una pausa dal canale perché ragazzi sapete com'è lo studio, la scuola e tutto è veramente difficile tra l'altro questo è un periodo veramente incasinato sono il vero al secondo superiore ma la scuola mia mi stanno incasinando perché in questo periodo compiti su compiti interrogazioni su interrogazioni devo prepararmi bene devo prepararmi quindi non ho molto tempo per registrare tipo io adesso dovrei studiare perché domani è il compito domani è una verifica dovrei studiare per farvi sto vlog ma non voglio lasciare in attivo il canale quindi vi dico cercate di comprendermi raga perché è una cosa veramente molto difficile per me dover prendermi questa pausa dal canale cercherò di far uscire uno massimo due video un video diciamo alla sera ogni due giorni cercherò ma non lo so perché tra l'altro pure ho altri impegni oltre a farvi i video su youtube ho chiaramente i miei impegni personali e quindi non sono sicuro se riuscirò a far uscire i video però benché vada li farò per carità tra l'altro cosa volevo dirvi ah si va bene la stagione di nuovo di gp2006 e penso arriverà sul mio canale Batman arriverà sul mio canale Batman sia Batman che Spider-Man vi ricordate che quest'estate più o meno vi feci due episodi su Spider-Man penso che quel gioco lo continuerò penso eh comunque raga queste erano più o meno le news che volevo darvi niente di più niente di meno vi ripeto Resident Evil di Alto Scat mi metto un attimo in una parte non la chiudo come serie la voglio solamente mettere via mettere via e diciamo per adesso fermarmi perché l'ultima volta rifarmi tutto quanto per poi registrare non mi va non mi non mi non mi girano le scatole mi girano le scatole mi girano le scatole raga raga che vi devo dire spero che questo vlog lo appreziate io vi saluto e ci rivediamo alla prossima alla prossima